Erano presenti al concerto dei Maneskin di ieri a Roma, al palazzo dello sport, anche Ilari Blasi e il suo nuovo compagno, la conduttrice e l'uomo in questione. Erano presenti a questo importante evento nella capitale, hanno letteralmente incantato anche i presenti attraverso la loro bellezza che non basta di certo inosservata. I fan di Ilari sono stati molto contenti che Ilari abbia ritrovato il sorriso vicino al nuovo uomo, vicino a un nuovo compagno. E pensate che proprio Ilari Blasi si è resa protagonista, diciamo così, di un momento piuttosto magico. Infatti ha incontrato probabilmente il suo beniamino, ossia Damiano dei Maneskin, nel relativo backstage e quindi diciamo che la sua presenza, ripeto, non è passata di certo inosservata. Il frontman dei Maneskin, infatti, è apparsi in ottima forma fisica, smagliante, azzata a dire, in un selfie, in un'immagine proprio in compagnia di Ilari Blasi. E' evidente che Ilari Blasi abbia una grande passione nei confronti della musica che probabilmente sono convinto condivita con il nuovo compagno di lei. Va bene? Ecco, diciamo che in modo molto sintetico e efficace, vi dico che non sono passati a non osservati, e la simpatia di Ilari e la bellezza di Ilari e dei compagno, sono stati probabilmente il volo ad aggiunto della serata di Ilari al palestato sport, ubicato all'Euro di Roma. Iscrivetevi, commentate, ci sono da Alejandro, il narratore italiano di Youtube Italia, ciao!